Ciao a tutti, sono Momoko88, oggi sono qui per recensire una bambola di Descendants si tratta di Mal nella sua versione normale, nel suo outfit iconico l'ho comprata, cioè in verità me l'ha regalata Giorgia, però vabbè l'abbiamo comprata insieme al Toy Center l'abbiamo pagata 29 euro però con lo sconto perché era sotto Natale e comunque di solito queste bambole qui in Italia costano sui 29,99 euro per l'esattezza ma forse magari Amazon le vende a meno, non lo so, non ho mai comprato una bambola di Descendants su Amazon quindi non ne ho idea, vediamo un secondo la scatola che è uguale a quell'altra di Mal versione in coronazione, ce la posso fare, come vi ho già detto l'altra volta la confezione è particolare perché è asimmetrica prima di tutto, secondo poi ha questa finestra dove ci fa vedere la bambola che è contornata da una cornice in modo da creare una sorta di specchio qui sui lati ci sono dei rovi, c'è il simbolo di Mal che sono due draghi che formano un cuore e la scatola va dal colore nero grigio a quasi bianco e in basso c'è scritto Descendants, Disney, Mal, Isle of the Lost, l'Isola degli Sperduti il logo dell'Asbro perché se non vi ricordate queste bambole nuove sono prodotte dall'Asbro qui c'è una bambola consigliata dai sei anni in su e qui dietro abbiamo Mal, l'attrice del film e ci dice ancora Mal, Isle of the Lost Daughter of Maleficent, Choosing Good Above All Else figlia di Malefica che sceglie il bene rispetto a tutto il resto e questa è la confezione oggi ho detto ma che bello c'è una bella giornata invece fa un sacco di riflessi il sole sulla confezione yeeey vabbè questo è per quanto riguarda la confezione cioè non è che ci sia molto da dire vediamo qua c'è un piccolo stand cioè non è uno stand vabbè insomma un coso di cartone che tiene da parte le scarpe che arrivano insieme alla bambola poi c'è sempre il simbolo di Mal e sullo sfondo ci sono comunque sempre rovi, draghi e degli spruzzi anche di spray verde qua in fondo perché come sapete a Mal piace fare i murales e quindi hanno ricreato un po' questi effetti di bomboletta spray anche in fondo alla sullo sfondo della confezione oggi non ce la faccio a parlare ragazzi va bene apriamo Mal e vediamola più attentamente eccoci qua con Mal fuori dalla confezione devo dire che le confezioni dell'asbro sono sempre abbastanza irritanti perché sembra che abbiano paura che la bambola scappi dalla scatola e quindi mettono un sacco di elastici o lacci di plastica per tenere insalamata la bambola affinché non se ne vada dalla scatola vabbè comunque e quindi ci ho impiegato tipo 10 minuti per levarla dalla scatola anche perché io faccio sempre con molta attenzione perché ci tengo tantissimo a queste bambola e comunque non ho parole Mal è veramente stupenda come sapete per chi non se lo ricorda Mal è il mio personaggio preferito del film e anche come bambola la adoro cioè c'è poco da fare e sono estasiata è veramente troppo bella vabbè non so da dove partire perché c'è veramente un sacco di roba da dire partiamo dalla cosa più veloce e inutile Mal arriva con questo libro che sarebbe penso il suo libro degli incantesimi che è marrone ha stampato sopra un drago che è dorato è colorato dorato ha anche questi dettagli qui dorati e poi c'è un segnalibro che però ricorda di più una lingua di un drago appunto e comunque ora non lo so se riuscite a vederlo ecco è tutto ha un partner pattern ora io voglio fare la canza usando questi termini ma poi mi si intorciglia tutta la lingua e comunque è fatto come se fosse le scaglie del drago insomma è fantastico veramente fantastico e all'interno l'ho scoperto prima perché stava cadendo cioè si apre e all'interno trovate penso sia un adesivo con il simbolo caratteristico appunto del personaggio che sono come ho detto prima i due draghi che formano un cuore però io non lo voglio perdere quindi lo ritengo dentro quindi questo è l'unico accessorio che arriva insieme a Mal oltre alle sue scarpe quindi questo lo trovo veramente un accessorio fatto molto bene molto dettagliato e quindi molto molto bello e ora vediamo più da vicino Mal ok allora questo è il viso di Mal sto usando il nuovo cavalletto e sto cercando di fare una cosa molto faica sperando che insomma vabbè comunque questo è il viso di Mal allora c'è da dire che purtroppo forse diciamo sì purtroppo i suoi capelli dal da qui in cima fino alle punte sono assolutamente pieni di lacca quindi per stare in questa posizione qua o comunque non lo so perché io pensavo che le avessero messo solo qui sulla frangia in modo che stesse impiega diciamo e invece quando l'ho aperta dalla scatola le ho toccato le ho toccate i capelli ho scoperto che sono fino alle punte e quindi per chi ci vuole giocare direi aiuto non so se vi conviene spazzolarglieli perché se no poi farebbe effetto elettrico comunque non so come si potrebbero comportare i capelli di Mal se vengono spazzolati visto che sono così pieni di lacca veramente non ne ho idea io non li toccherò assolutamente quindi non so dirvi vi direi di lasciarli così ma se ci giocate è un pochettino difficile dunque Mal ha lo stesso viso della bambola dell'incoronazione le sue sopracciglia sono viola forse in questo momento non si vede bene io non so più cosa devo fare con queste luci comunque vabbè ha gli occhi con marroni verdi ha un ombretto rosa chiaro che le contorna il l'occhio i due occhi ha un po' di di fard sulle guance che però è molto leggero e ha il suo rossetto rosa scuro direi e vabbè non penso che ci sia bisogno di dirlo i suoi capelli sono neri con un bel po' di striature di ciocche viola mi sono accorta solamente guardandola più da vicino che Mal indossa degli orecchini purtroppo non riesco a farveli vedere bene perché la luce e poi i capelli sono molto appiccicati come vi ho detto sono tutti rilaccati quindi è un po' difficile da far vedere comunque ha due orecchini cioè ma ovviamente le orecchie sono due ah 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 non lo sapeva nessuno vabbè sono dorati e sono ho fatto un po' fatica a capire che cosa rappresentassero ma poi l'ho capito sono due draghi cioè è un drago su ogni orecchino mi spiace di non riuscire a farvelo molto vedere ma ha i capelli veramente tutti impattaccati ed è una cosa impossibile comunque parliamo un attimo dell'outfit di Mal che è assolutamente praticamente identico a quello che ha nel film tranne per alcuni dettagli che sono leggermente diversi visto che per realizzare lo stesso vestito sarebbe stato alquanto arduo infatti se la mettesse a fuoco non sarebbe male io continuo a parlare senza la messa a fuoco che bello comunque Mal ha la sua giacchettina che gli hanno fatto di questo tessuto simil pvc mettiamola in questa in questa maniera che dà abbastanza l'idea come potete vedere dà abbastanza l'idea del materiale che indossa nel film quindi direi che è fatto abbastanza bene ha le questa parte dipinta di verde il fondo dipinto di viola e anche qui c'è la spalla dipinta di viola purtroppo qui non hanno messo le borchie come effettivamente ce le ha nel film ma hanno messo solo dei puntini brillantini con alcuni brillantini dei puntini dorati però penso che sarebbe stato abbastanza difficile fare delle borchie su un vestito di una bambola e qua non ha la cerniera bensì ha sempre una striscia tutta dorata però direi che la cosa più figa della parte sopra del vestito di Mal è questa che non so mai come chiamarlo diciamo che è un coprispalle più un colletto enorme che è fatto benissimo è un pezzo di plastica che si può levare qui ha degli elastici per tenerlo che io non ho levato appunto perché la terrò così e non la voglio assolutamente rovinare come potete vedere il il disegno comunque il pattern disegnato sopra è sempre sono sempre delle squame appunto per ricordare il drago e anche le spalle sono le spalle del coprispalle ma che ironia sono a forma di ali di drago e lo trovo veramente fatto bene e molto dettagliato e qui nel mezzo della schiena o comunque del coprispalle sempre c'è sempre il simbolo di Mal colorato in verde e quindi non l'avevo notato sulla bambola si nota solamente se appunto la giri perché appunto la bambola davanti questa chioma infinita di capelli che coprono un po' il coprispalle quindi non si riusciva a capire bene dalla confezione passando alla parte inferiore il suo giacchettino le fa un po' anche da gonnellina più o meno e le borchie sono sempre simulate da questi puntini dorati e sotto perché è sempre attaccato al al giacchettino c'è questo pezzettino di pizzo nero che le esce un po' da sotto la giacchettina ed è abbastanza simmetrico ma lo è anche nel film e cioè comunque il vestito è rimovibile poi Mal indossa questi leggings che sono io pensavo che fossero più dei pantaloni quando ho visto il film ma a quanto pare sono leggings solo che nel film sembrano leggermente di un tessuto più pesante ma qui ovviamente per la bambola li hanno fatti così e sono sembrano un po' stile militare ma per farvi capire e hanno sono viola fucsia e neri e qui di lato hanno questi disegni che dovrebbero ricordare del pizzo del pizzo forse perché lì sarebbero strappati e ci sarebbe del pizzo penso però è tutto stampato su leggings purtroppo guardiamo un attimo gli stivali però pensavo di fare un'altra cosa allora queste sono le bellissime scarpe di mall dai sono le bellissime scarpe di mall che purtroppo la mia è leggermente rovinata qui è colorata male c'ha uno sbordo di dorato che non ci dovrebbe essere ma penso che risolverò la cosa colorandoli un po' preferivo avere la pettinatura di mall a posto quando l'abbiamo scelta purtroppo aveva questo difetto alla scarpa ma preferivo avere la pettinatura a posto a questi bellissimi ritornando a noi scusate io mi perdo sempre a questi bellissimi stivali che sono hanno sempre questa trama un po' squamosa a questo intreccio qua davanti più scuro a queste sorta di braccialetti di borchie che lo circondano ma la cosa più figa penso che sia assolutamente il tacco dove è attorcigliata una coda di un drago e le trovo veramente fantastiche queste scarpe la cosa che scusate mi sono scordata di dirvi è che Mal ha alle mani due guantini che sono diversi da mano a mano che non mi ero accolta che avesse nel film comunque qui ha dei guantini neri da cui pendono tre caterine mentre da questo lato ha semplicemente dei guantini senza le dita neri con dei buchini sulle nocche e e si questa è Mal è assolutamente fantastica scusate la metto nella sua posizione che era prima ole sono male e sono fabalosa e mi sembra di aver detto tutto forse questa recensione è durata anche troppo ma voglio cercare sempre di descrivervi le cose al meglio e poi mi dilungo ovviamente scusatemi sono sempre una cicciarona vabbè cercherò di migliorare ancora di più in futuro perché ultimamente sono migliorata tanto me lo dico da sola però va bene così va bene allora direi che per questa recensione di Mal è tutto ditemi cosa ne pensate nei commenti se vi è piaciuta l'acquisterete non ho altro da dirvi se non stay kawaii